C'è Totti sulla pallone, per un momento a saltare solo in tre, della Roma. Non sarebbe anche Prelli, parte Totti verso Doug Sinis, il porto da Doug Sinis. Go! 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 Poi tiani in c'è, grande palla, Totti controllo, per destra, finale del rigore, Totti, 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 Totti! Davide! 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 Arriva a sostegno Bazzaretti, lo vede Totti, il pallone per Bazzaretti. Ancora Totti, è scadotto da Xilz e Totti... Go! 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 Grande! Grande capitano! Invece a testa dove c'è Pjanic? Totti, lo va a prendere Savic. Centroamento Sbardo, il controllo dello Sbardo. Altezza del PC superiore per l'America. Guarda Totti, diventa il rigore, Totti la mette in mezzo! Go! 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 Gat! 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 Grazie a tutti